La Roma di Eusebio Di Francesco nel mirino del Frosinone di Marco Baroni, pronto a cancellare la pesante sconfitta subita nel match di andata giocato lo scorso settembre all'Olimpico. Il K.O. contro la Juventus ha allungato il margine in chiave salvezza, con i giallazzurri di nuovo a meno 5 dal quart'ultimo posto. Contro la Roma sarà fondamentale conquistare un risultato positivo anche per spezzare la serie negativa allo stirpe, dove il Frosinone ancora non ha mai vinto in stagione ed ha conquistato soltanto un punto contro il Milan nelle ultime quattro partite di campionato. Baroni dovrà rinunciare ancora agli infortunati Lorenzo Ariaudo e Paolo Ghiglione, qualche speranza in più per Stefan Simic, che continua a lavorare a parte ma contro la Roma potrebbe tornare a completa disposizione. Sul fronte formazione è probabile il ritorno in campo dal primo minuto di Raffaele Maiello in mezzo al campo e di Andrea Beghetto sulla corsia Mancina. In attacco, dubbio, Daniel Ciofani, Andrea Pinamonti.